Il comune di Terranuova ha in programma una serie di lavori di urbanizzazione alla Badiola. Ce ne ha parlato il sindaco Sergio Chieni. Si tratta del piano di recupero in zona Santa Maria, riguarda diversi cittadini del nostro comune. Purtroppo il lottizzante non ha completato le opere di urbanizzazione, quindi il comune ha richiesto un accertamento tecnico preventivo e alla fine del procedimento è stata escussa la fiduzione che copriva la realizzazione delle opere pubbliche e saremo noi in prima persona a realizzarle. Nei prossimi giorni inizieranno i lavori, è un altro step di una situazione critica e complessa che va però incontro alle legittime esigenze dei cittadini. Le opere riguarderanno diversi aspetti, per un ammontare di circa 200 mila euro, ci riferiamo in particolar modo alla realizzazione delle caditoie stradali, dei pozzetti, alla realizzazione dei punti luce con l'estensione della rete esistente e con illuminazione a LED, la realizzazione dei tratti di marciapiede che sono attualmente assenti, la banchina stradale, il conglomerato bituminoso di cui alcuni tratti della sede stradale è sprovvista, la demolizione e il rifacimento di alcuni lavori perché siano creati degli avvallamenti, in più la realizzazione della segnaletta di avviamento orizzontale e verticale, la manutenzione delle aree verdi e la piantumazione. Non è l'ultimo step degli interventi che sono necessari perché lì sarà necessaria una nuova pianificazione per chiudere il cerchio, ma riteniamo che dopo una questione annosa rappresenti un altro step importante di risposta.